Dottor Ferrari, un incontro oggi con la Polizia Penitenziaria per discutere appunto di quello che è il lavoro all'interno e le loro possibilità di salute. Sì, abbiamo discusso della particolarità del lavoro all'interno del corpo della Polizia Penitenziaria. Un corpo di polizia che è spesso trascurato e poco conosciuto, con un'immagine sociale che è spesso ambigua e confusa. L'obiettivo era quello di approfondire quali fossero i rischi specifici per la salute di questo corpo di polizia e soprattutto abbiamo consegnato una proposta di legge per l'istituzione di una direzione sanitaria all'interno del corpo di polizia penitenziaria. Ricordiamo che è l'unico corpo di polizia ad ora che non ha delle figure sanitarie. Quindi questi lavoratori non possono beneficiare dalla tutela di figure sanitarie all'interno del loro corpo di polizia. Nonostante svolgono un ruolo veramente delicato, l'obiettivo era farlo coinvolgendo le istituzioni, coinvolgendo altri corpi di polizia, altre forze dell'ordine, per confrontarci, per vedere cosa potevamo esportare, cosa potevamo portare all'interno del corpo di polizia. Ma l'obiettivo secondario era anche quello di cominciare a parlare dell'amministrazione penitenziaria, di cominciare a valorizzare quelle che sono le professionalità all'interno di questa amministrazione, perché comunque, come dicevo, è un ruolo ambiguo, confuso, spesso non conosciuto. Tuttavia ci sono delle professionalità importanti che hanno un ruolo molto delicato, perché a loro è dedicata la custodia dei detenuti e la loro riabilitazione. Quindi entro quanto sarà possibile questo? Noi speriamo, circa all'interno di un anno, di cominciare a fare degli interventi reali, seri, con dei protocolli di intervento per la tutela e la promozione della salute e con interventi che cerchino sempre di più di valorizzare la professionalità degli operatori all'interno dell'amministrazione penitenziaria.